Anno 1919. L'archeologo inglese Harry Reginald Hall sta effettuando per conto del British Museum degli scavi nel sito di Al-Ubaid, nell'attuale Iraq. Tra i tanti ritrovamenti, alcuni manufatti presumeri risalenti a circa 7.000 anni fa. A questa cultura è legato un intrigante mistero, un mistero venuto alla luce proprio insieme a quei manufatti. Cercheremo di capirne di più. Restate con me e ovviamente con il giornale dei misteri. A tra poco. Tra il 4.000 e il 5.500 avanti Cristo, in Mesopotamia, si sviluppa la città di Al-Ubaid. la cultura preistorica di Ubaid, la cui origine, così come per i sumeri, è ancora oggi del tutto sconosciuta. Vivevano in insediamenti costituiti da case di mattoni di fango. Svilupparono l'architettura, l'allevamento del bestiame, l'agricoltura. Essi diffusero lungo il fiume Eufrate e fino al sud dell'Anatolia. Ma il mistero che avvolge la cultura di Ubaid non è soltanto relativo alla sua origine. Questo è quanto rimane di Al-Ubaid, luogo nel quale vennero ritrovate delle insolite statuine che ritraggono figure sia maschili che femminili in diverse posture e tutte con sembianze rettiloidi. Nella maggior parte dei casi sembra anche che indossino una sorta di casco e che abbiano un qualche tipo di imbottitura sulle spalle. Altre invece reggono una sorta di scettro, forse un simbolo regale e di potere. Altre riproduzioni simili vennero rinvenute anche negli scavi di Ur e di Eridu. Per quale motivo rappresentare delle figure con le teste allungate, gli occhi a mandorla e il naso simile ad una lucertola? E per quale motivo si trovano anche delle figure femminili che tengono in braccio un bambino, anche questo con le sembianze di una lucertola? Cosa o chi rappresentino è ancora un mistero, ed è forte la tentazione di accostare questo scenario a quello altrettanto misterioso che vede come protagonisti i rettiliani. Proviamo ad approfondire ancora di più questo enigma, anche perché, come vedremo, non si tratta di un caso isolato. Ovviamente, chiunque o qualunque cosa rappresentassero erano di certo molto importanti per la cultura di Ubaid. D'altra parte, il serpente è un antichissimo simbolo da sempre ricorrente in tutte le civiltà e di questo ci siamo già occupati nell'episodio dal titolo Le civiltà del serpente. Non a caso, quindi, molte delle divinità antiche, gli dei venuti dal cielo, avevano sempre un attributo o un particolare che rimandava all'idea del rettile. I sumeri, ad esempio, in alcune loro rappresentazioni, raffiguravano il dio Enki come un essere metà uomo e metà serpente. Anche la sua iconografia è particolarmente interessante, una sorta di caduceo molto simile al bastone del dio Asclepio, ma che ricorda anche in maniera sconcertante la doppia elica del DNA. Chi erano queste antiche figure? Forse gli antichi dei primordiali, i primi responsabili della creazione? Rivedendo il panteon divino degli antichi sumeri, non possiamo non notare il fatto che nessuna delle divinità descritte è coinvolta nella creazione. Gli dei, infatti, sono parte della stessa creazione, figli di una progenie divina e non umana che in principio governava gli uomini, che arrivò sulla terra a bordo di velivoli dalla forma rotonda o cilindrica, che iniziò a sfruttare le risorse minerarie del pianeta e che creò anche gli dei i quali poi si ribellarono. Le statuette di Ubaid rappresentano forse questa antica stirpe? Le statuette di Ubaid sono alte bene o male come questa rappresentazione del dio Ganesha tra i 10 e i 15 centimetri e non si distinguono soltanto per i loro tratti fisici ma anche per il loro particolare abbigliamento. Sembrano infatti avere addosso dei particolari disegni, forse dei tatuaggi oppure degli antichi monili. Ma esiste anche un altro particolare, molto più inquietante. Secondo gli esperti e molti archeologi, le statuette Ubaid non sono la rappresentazione di divinità locali, cosa che rende ancora più misteriosa l'intera faccenda. Questa certezza si basa sullo studio della mitologia di coloro che eseguirono i manufatti. La mitologia di Ubaid, infatti, non menziona dei creatori e, così come per i sumeri, le divinità erano in realtà esseri umani, anche se con attributi divini creati dagli dei primordiali. Inoltre, anche le varie pose sembrano rinforzare questa ipotesi. Sono pose che ricordano un vissuto del tutto normale, come ad esempio, nelle figure femminili, quella di allattare un bambino. Rimane ovviamente aperta la questione della simbologia, quella del serpente antico dispensatore di sapienza e conoscenza. Ma questo da solo non basta a svelare il mistero. Sulla questione sono sorte numerose teorie. Quella di David Icke, ad esempio, riguardante una razza di extraterrestri, i Rettigliani, così come quella del geologo e paleontologo americano-canadese Dale Russell, docente presso la North Carolina State University, il quale suggerì la possibilità che i dinosauri possano essere almeno in parte sopravvissuti e che potrebbero essersi evoluti in forme di vita altamente intelligenti. Teoria proposta nel 1982 e ricordata come la teoria del dinosauroide. Un fatto curioso riguarda invece un articolo apparso nel 1934 sul Los Angeles Times. L'articolo parlava di un labirinto sotterraneo, abitato da esseri non umani, dalle forme che ricordavano i rettili e che vivevano sottoterra da ben 5.000 anni. Concludiamo riprendendo quanto detto in merito a questa particolare iconografia e ricordando il dio egizio Sobek dalla testa di coccodrillo, oppure i Naga, creature semidivine dell'Asia meridionale, metà uomini e metà serpenti. A proposito del dio egizio Sobek e dei coccodrilli sacri, vi rimando ad un episodio che uscirà a breve dedicato al labirinto perduto di Fayum, labirinto costruito dal faraone Amenemet III. Si tratta di antichi ricordi legati alle statuette di Ubaid? Furono proprio queste figure che diedero inizio a quanto in seguito descritto negli antichi testi? E con questo quesito sul quale riflettere, siamo giunti alla conclusione di questo nostro nuovo incontro. Io come sempre vi invito, se vi fa piacere, se vi è piaciuto il video, se vi piace il canale, ad iscrivervi, a cliccare sulla campanella per gli aggiornamenti. Vi invito anche, se vi fa piacere, a lasciare i vostri like e i vostri sempre importantissimi commenti. Vi ringrazio per essere stati con me, vi ringrazia il giornale dei misteri, vi do appuntamento come sempre per mercoledì prossimo e come sempre alle 14.30. Grazie della vostra compagnia, alla prossima. Ciao a tutti.